Macedonia Festival, un bel mosaico di tanti colori e tanti sapori. La qualità delle canzoni? È buona, è buona. Ovviamente la melodia italiana la fa da padrona nelle sue sfaccettature, sia quando ascolteremo il rap e quando ascolteremo qualcosa di più importante, come ad esempio la canzone del volo, che è evidentemente diversa dal sapore del rap.